Il nostro telegiornale Siamo rientrati con la nostra troupe proprio pochi minuti fa, un'ampia pagina dedicata a questo nel nostro telegiornale, poi dopo l'ampia pagina elettorale nella programmazione di questa sera alle 22.48 circa andrà in onda un servizio esteso dedicato allo sbarco nuovo delle reliquie di Santa Restituta all'Acquameno per fare ritorno all'interno della Basilica. Ma di questo e ovviamente di tanti altri argomenti ci occuperemo tra poco dopo la pubblicità. Il nostro telegiornale è un'autocampo da 1,5 Tesla, ideale per analisi del cranio, colonna vertebrale, dello scheletro, dell'addome superiore ed inferiore, particolarmente indicato per diagnosi della mammella e la prostata. Una macchina fondamentale per la prevenzione delle malattie, la nuova Moc Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad è centro specializzato per mammografia. Siamo in Rione Genala, 16 a Forio, telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Trattati da re, ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te, di ben 2.000 metri quadrati, a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa, trattati da re. Grazie a tutti. Per la salute dei tuoi amici a quattro zampe, ambulatorio veterinario della dottoressa Maria Pagano. Vieni a trovarci per visite di medicina generale, analisi cliniche con emocromo ed esami biochimici, con risultati pronti in pochi minuti, diagnostica ecografica e radiologica. Siamo organizzati per il rilascio dei certificati per le malattie scheletriche del cane. Presso il nostro ambulatorio è attrezzata una sala operatoria per chirurgia, sia generale che specialistica, dei tessuti molli, con impiego di anestesia gassosa, terapia del dolore ed agenza post-operatoria. Offriamo servizio di nutrizione specialistico. Ad Ischia, in via Fondo Bosso 14, ambulatorio della dottoressa Maria Pagano. Per la salute dei tuoi amici a quattro zampe. Ad Ischia, in via Fondo Bosso 14, ambulatorio della dottoressa Maria Pagano. Ad Ischia, in via Fondo Bosso 14, ambulatorio della dottoressa Maria Pagano. Ad Ischia, in via Fondo Bosso 14, ambulatorio della dottoressa Maria Pagano. il festival per le scuole e gli studenti che entrano nel mondo dell'arte e dello spettacolo musica, danza, moda i protagonisti del premio Franceschina del premio Artemisia e del premio internazionale Ugo Calise bellezza giovane Ischia International School pubblicità media in service buono pubblicità agenzia stampa e propaganda dal 1962 nuove idee per l'isola di Ischia campania ancora maltempo allerta meteo gialla per 24 ore la protezione civile regionale ha emesso l'avviso relativo a tutto il territorio campano in vigore dalle 9 di mercoledì mattina porto di Casamiccio la Scalo importante per i disabili contro i lavori del pontile SNAV anche Geppino d'Orta del CNA per i disabili un approdo indispensabile per non arrivare fino ad Ischia terremoti campi flegrei tutto sotto controllo il direttore dell'osservatorio vesuviano tranquillizza i cittadini non ci sono motivi di preoccupazione santa restituta torna all'acquameno l'urna con le reliquie della santa cartaginese provenienti dal Duomo di Napoli accolta sul pontile da una folla di fedeli buonasera e bentrovati all'edizione serale del telegiornale di Teleischia come detto con il titolo di apertura della protezione civile della regione campania emanato un'allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo a partire dalle 9 di domani mattina su tutto il territorio della regione campania fino alle 9 di giovedì 11 maggio i fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione potrebbero essere intensi nonché accompagnati da grandine fulmini e raffiche di vento e dopo le scosse di terremoto avvertite nei giorni scorsi nell'area dei campi flegrei abbiamo deciso di chiedere al direttore Mauro Di Vito dell'osservatorio vesuviano di fare un po' di chiarezza analizzando i dati a disposizione è un'attività che stiamo seguendo da vicino non ci risultano al momento delle ragioni di maggiore preoccupazione ci ha dichiarato vediamo negli ultimi giorni nella zona dei campi flegrei si sono avvertite diverse scosse di terremoto la più importante 3.4 il giorno 8 maggio e la popolazione inizia a preoccuparsi ascoltiamo ai nostri microfoni l'analisi di Mauro Di Vito il direttore dell'osservatorio vesuviano di Napoli è un'attività sismica legata alla deformazione del suolo a questo rigonfiamento del suolo che determina sostanzialmente aumento di tensione del sottosuolo fratturazione di rocce e quindi terremoti è un'attività che stiamo seguendo con grande attenzione per capire dove continuano ad avvenire i meccanismi con cui avviene ma sicuramente non c'è un motivo particolare per gli ultimi eventi di maggiore preoccupazione ma sicuramente è importante continuare a seguire questa attività c'è stato il giorno 8 un terremoto di magnitudo 3-4 di mattina ai campi Flegrei e sicuramente questo ha svegliato oltre che me ha svegliato i cittadini perché è molto superficiale un po' più grande uno dei terremoti di magnitudo superiore a 3 degli ultimi 15 mesi sono stati solo 3 i terremoti superiore a 3 di magnitudo e questo sicuramente ha allarmato molto la popolazione che ha sentito distintamente ma questo dipende dal fatto che sono terremoti molto superficiali noi sappiamo che in caso di zona arancione rossa si iniziano le evacuazioni ora siamo zona gialla restiamo zona gialla o ci sono dei rischi? Siamo a un livello giallo cioè di attenzione che riguarda essenzialmente attività dell'ente dell'osservatore vesuviano ma anche attività di comuni e protezione civile proprio per migliorare sempre di più quella che può essere la risposta a eventuali variazioni ma il passaggio ad arancione o a rosso implica sicuramente azioni molto importanti ma non c'è una prospettiva nel breve rassegneriamo invece i cittadini di Ischia primo maggio si è registrato un terremoto a largo delle coste di Casamicciola un territorio già approvato in realtà possono stare tranquilli no quel terremoto non era Ischia era il sistema automatico che ha localizzato Ischia ma già dopo due minuti quando i nostri ricercatori in sala rianalizzano i terremoti si è visto chiaramente che non era un terremoto di Ischia ma era un terremoto che veniva dalla costa Calabra molto più lontano e che chiaramente nel sistema automatico può essere individuato come terremoto di Ischia ma non era un terremoto di Ischia Il porto di Casamicciola è un importante scalo per gli isolani della zona sud soprattutto disabili che devono raggiungere la terraferma anche per ragioni sanitarie è il pensiero di Geppino Dorta rappresentante del Consorzio Nazionale Artigiani espresso a margine della manifestazione di protesta contro i lavori al pontire degli aliscafi SNAV sentiamo Una manifestazione per il porto di Casamicciola che cosa chiediamo cosa ci aspettiamo dalla politica soprattutto quella regionale Allora voglio chiedere al Presidente della Regione io sono un disabile un non vedente da un po' di tempo e rappresento la CNA Napoli per dire in breve Consorzio Nazionale Artigiani e Imprenditori ho un 300 iscritti che appoggiano tutti quanti a me e tra cui ci sono tanti tanti disabili i disabili del lato sud dell'isola devono arrivare a Ischia per prendere un aliscafo Caremar con cui hanno anche uno sconto speciale perché possono arrivare noi vogliamo la continuità e la vogliamo qua a Casamicciola perché l'abbiamo sempre avuto tra cui c'è una sola società privata mentre il servizio ci dovrebbe essere garantito dagli aliscafi pubblici quindi la Caremar deve prendere gli aliscafi qua e quindi il pontillo adesso non va smontato perché già stiamo soffrendo per le nostre disabilità e quindi il sud dell'isola non è più servito dobbiamo arrivare a Ischia per fare un biglietto bisogna fare veramente una peripezia per chi è che accompagna il disabile quindi noi vogliamo la continuità territoriale tramite Casamicciola e immediatamente non domani o dopo domani ci vuole un intervento subito pubblico che garantisca la continuità territoriale senza essere martorizzati di arrivare a Ischia nulla da togliere a Ischia per la sua capacità imprenditoriale di fare dei parcheggi e tutto qua non abbiamo più niente al di fuori del disagio economico abbiamo anche il disagio delle persone non abili che devono arricarsi a Ischia per avere qualche servizio in più qua c'è un aliscafo un puntile di aliscafo che era attivo fino a due giorni fa è stato reso in attivo anche togliendo immediatamente la copertura infatti stiamo a prendere la pioggia sotto per manifestare pure questo sono previsti dei lavori all'interno del porto di Ischia dedicati alla ordinaria e straordinaria manutenzione dei puntili galleggianti dell'approdo turistico i lavori partiranno domani e termineranno il primo giugno e ovviamente da parte delle autorità preposte arriva un avviso di allerta soprattutto a coloro che hanno dei natanti delle barche all'interno del porto di Ischia parliamo dell'approdo dal lato della riva destra del porto Santa Restituta torna all'Acquameno è arrivata infatti nel pomeriggio l'urna contenente le reliquie della Santa di Cartagine accolta da una folla di fedeli che l'ha accompagnata in processione nella Basilica Lacchese l'urna partita questa mattina dall'uomo di Napoli è stata trasferita prima nella chiesa di Porto Salvo ad Ischia dove poi si è mossa a bordo di una motonave per giungere all'Acquameno vediamo adesso i due servizi dedicati a Santa Restituta sia quello della partenza dal duomo di Napoli sia quello dedicato al ritorno nella Basilica di Santa Restituta all'Acquameno vediamo dalla Basilica di Santa Restituta IV secolo contenuta all'interno della chiesa cattedrale di Napoli fino a Ischia le reliquie di Santa Restituta per dare il via ai festeggiamenti della Santa Padrona di L'Acquameno che avrà come giorno principale il prossimo 17 maggio ascoltiamo ai nostri microfoni il canonico della chiesa cattedrale di Napoli Monsignor Alfonso Punzo credo che sia un bellissimo momento di grazia che ci apprestiamo a vivere in questo meraviglioso tempo di Pasqua in cui contempliamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte e la nostra Santa Martire Patrona con la sua vita e con la sua testimonianza martiriale è con lei che partecipa intimamente della gloria del risorto poiché lo ha seguito fino alla fine dando il suo sangue per lui si racconta che ella venne su una barca presso le nostre coste ora dalla chiesa cattedrale ritorna alla sua isola non tanto su una barca quanto sul vascello del nostro cuore nella basilica di Santa Restituta dove è possibile ammirare una tela di Luca Giordano raffigurante la santa o anche il battistero più antico d'occidente è arrivata una delegazione dall'isola di Ischia per prendere le reliquie e portarle sull'isola verde ascoltiamo il segretario del comitato di Santa Restituta Abramo Desiano noi oggi membri del comitato di Santa Restituta siamo stati incaricati dal nostro parroco Don Giacchino per venire dopo 13 anni a recuperare le spoglie appunto della Santa il programma è quello di ritornare con il prossimo traghetto sull'isola di Ischia dove l'urna verrà riposta nella chiesa di Portosalvo fino alle ore 18 da lì con Rumore una società dell'isola di Ischia che si occupa appunto del trasporto marittimo parterà da lì una processione per l'accameno dove ci sarà appunto la staglia della Santa in attesa dell'urna abbiamo incontrato Monsignor Alfonso Punzo già questa mattina quando le reliquie di Santa Restituta hanno lasciato il Duomo di Napoli lo ritroviamo adesso poco prima della celebrazione eucaristica qui all'interno della Basilica di Santa Restituta Monsignore che tipo di emozione ha percepito nella cittadinanza di l'acquameno che ha visto arrivare la sua Santa innanzitutto un saluto a tutti cordiale affettuoso il mio cuore diventa così ampio questa sera dall'accogliere tutti i cuori di questa bellissima isola e soprattutto degli abitanti di l'acquameno di cui senta restituta in martire e patrona un'emozione grande che si espande come le onde del mare perché ho visto negli occhi di coloro che guardavano la Santa il segno di una speranza ritrovata il segno di un futuro che vuole essere sereno è un futuro di pace di bontà di bellezza per costruire insieme una civiltà nuova che non sia dettata dalla legge della guerra ma la civiltà dell'amore e Santa Restituta nostra patrona martire di Gesù Cristo con la sua vita canta la pace canta la bellezza di un amore grande che soltanto può soddisfare le esigenze del nostro cuore io auguro a Don Gioacchino nostro parroco e a tutta la comunità di l'acquameno di specchiarsi negli occhi di Santa Restituta per cogliere e raccogliere energie nuove per costruire una civiltà degna di essere chiamata cristiana la civiltà della pace parliamo adesso delle elezioni domani mercoledì 10 maggio alle 19 presso l'hotel Il Nespolo in piazza del Bagna a Casamicciola ci sarà un incontro con il candidato al consiglio comunale di Casamicciola Aniello Di Orio nella lista ricostruiamo Casamicciola con candidato sindaco l'architetto Caterina Iacono Don Riboldi il coraggio tradito questo è il titolo del libro che racconta la vita e l'impegno per la legalità di un vescovo che per amore della gente è bell'ardore di mettersi contro la camorra il super boss Raffaele Cutolo chi era Don Riboldi e come è andata la sua battaglia ce lo racconta il giornalista e autore del libro Pietro Perone in un'intervista rilasciata ai nostri microfoni vediamo Pietro Perone i 40 anni dalla grande manifestazione che lei ha definito la più grande dopo quella del 68 Antica Morra organizzata da Don Riboldi a 100 anni dalla sua nascita tutto all'interno del suo libro Don Riboldi il coraggio tradito che cosa significa questo scritto cosa vuole ricordare? Beh vuole ricordare una stagione di grande coraggio appunto e di grande speranza quella dei giovani guidati da un vescovo che decisero un bel giorno di sfidare la Camorra di recarsi ad Ottaviano nel regno di Raffaele Cutolo e di dire noi così non possiamo continuare a vivere vogliamo un futuro diverso per la nostra per la nostra terra sono passati 40 anni da quelle marce che poi attraversarono l'intero mezzogiorno non furono una cosa solo campana ma si estesero in Calabria in Sicilia e a un certo punto ci fu anche diciamo una manifestazione nazionale a Napoli con 100.000 giovani arrivati da ogni parte d'Italia ecco a distanza di 40 anni forse un po' di quello spirito bisognerebbe ritrovarlo perché la Camorra fa paura almeno quanto all'epoca spara meno ma è molto più presente nei settori vitali nella società nella politica come nell'economia e quanto è importante diffondere quel messaggio il messaggio di Torriboldi alle generazioni nuove? questo credo che sia una cosa che bisogna bisogna fare bisogna ricominciare a fare anche perché purtroppo i modelli negativi che diciamo vengono trasmessi non hanno un controbilanciare e allora bisogna dire ai ragazzi che appunto c'è stato chi ha combattuto la Camorra chi ha avuto coraggio e che quel coraggio deve in qualche modo essere tramandato e preso d'esempio un'ultima Don Riboldi il coraggio tradito perché il coraggio tradito? perché molte di quelle cose che chiedeva Don Riboldi e che chiedevano i ragazzi con lui poi non sono stati realizzati dalla politica anche da quella politica che all'epoca marciò al fianco di Don Riboldi e degli studenti e parliamo adesso del Giro d'Italia visto che arriva nella nostra regione Campania ben quattro le tappe che toccheranno appunto la Campania l'appuntamento più atteso giovedì con i 162 chilometri della Napoli Napoli il percorso suggestivo e le iniziative collaterali al passaggio della Corsa Rosa sono state presentate oggi nel corso di una conferenza stampa tenuta in città metropolitana vediamo tutti i dettagli in questo servizio il lungomare partenopeo il Vesuvio le costiere ma anche il Miglio d'Oro Pompei Ercolano Portici e la sua reggia è tutto pronto per la Napoli Napoli la sesta tappa del Giro d'Italia che con partenza e arrivo nel capoluogo campano toccherà quasi tutte le principali bellezze della nostra regione l'appuntamento in programma giovedì con inizio alle ore 13 è stato presentato nella sede della città metropolitana dove oltre al tracciato di 162 chilometri con due traguardi volanti e due gran premi della montagna sono state svelate anche le principali iniziative collaterali a partire dall'accoglienza Piazza del Plebiscito ospiterà gli stand di Napoli Open Village in via Anton Dorn ci sarà invece Giroland lo spazio dedicato alla storia della Corsa Rosa dove sarà anche possibile scattare una foto ricordo con il trofeo senza fine tra le acque del Golfo di Napoli mentre i corridori si sfideranno per la vittoria di tappa si potrà ammirare la nave Minbelli della Marina Militare Italiana mentre la reggia di Portici per tre giorni a partire da oggi va in scena la scienza in bicicletta format innovativo per gli approfondimenti su tematiche relative alla bici e a una visione di futuro sostenibile infine per non dimenticare il legame con i grandi campioni del passato domani alle 19 al velodromo al Bricci di Napoli sarà scoperta una targa in memoria del mito Fausto Coppi questa tappa secondo me sarà anche addetta di RCS quando fu la presentazione della tappa quando andai a Milano una delle tappe più belle dell'intero giro d'Italia la prenderà tutti i comuni dell'area vesuviana passerà per tutti i comuni della penisola sorrentina e poi oltre questo qua partirà a parte da Napoli e tornerà a Napoli l'obiettivo nostro è proprio il rischio visto il successo della volta precedente che l'abbiamo fatto in onore di Proce da Capitale della Cultura e abbiamo visto tutti i comuni dell'area da Fregrea quest'anno l'investimento che noi vogliamo fare perché è una promozione culturale pensate che tutti questi comuni dove attraverserà il giro ne sono 22 della città metropolitana di Napoli saranno oltre 250 milioni di spettatori in tutto il mondo quindi l'obiettivo della città metropolitana oltre per quanto riguarda lo sport oltre per quanto riguarda l'atto fatto culturale noi vogliamo valorizzare proprio questi territori e quindi sarà uno dei tappi più belle dell'intero giro d'Italia e tutta l'area metropolitana quindi la città metropolitana sarà conosciuta in tutto il mondo una bellissima tappa che unisce dei luoghi veramente straordinari dal punto di vista ambientale perché c'è la città di Napoli poi con la sua sia col suo lungomare ma anche con la sua zona est c'è tutta la costa che verrà seguita e poi si arriverà nella penisola sorrentina poi a Malfitana poi si ritorna intorno al Vesuvio quindi i luoghi più belli di una parte bellissima dell'area metropolitana poi anche una tappa da punista sportiva molto interessante perché non è una tappa pianeggiante è una tappa dove ci sono anche delle salite interessanti quindi ci sarà anche battaglia competizione una bella giornata sportiva ma anche di immagine e di promozione turistica per i nostri territori è stato presentato a Napoli il testo a scuola da De Laurentiis di Enzo Imperatore all'analisi attraverso testimonianze di giornalisti addetti ai lavori e personalità del mondo della finanza e della politica di un modello imprenditoriale di successo che tenendo i conti in ordine ha portato gli azzurri alla vittoria del tricolore dopo 33 anni vediamo il Napoli è una società sana che ha vinto senza svenarsi in un calcio pieno di debiti grazie a progettualità competenza ed un pizzico di fortuna che non guasta mai motivo per il quale il padrone azzurro può essere definito un modello da attenzionare ed è proprio a tutto ciò che è dedicato il testo a scuola da De Laurentiis di Enzo Imperatore dagli esordi alle serie minori ai primi trofei passando per le sfide in Europa allo scudetto sfiorato con Sarri e dalla rivoluzione tecnica dello scorso anno che ha portato al tricolore nel testo edito da Ultrasport l'autore Enzo Imperatore realizza il primo libro sul De Laurentismo avvalendosi delle testimonianze dei giornalisti addetti ai lavori e personalità del mondo della finanza e della politica un libro che racconta il modello De Laurentiisiano un modello imprenditoriale manageriale vincente ma anche un tentativo di scrivere il tifoso alla scuola di De Laurentiis per fargli fare per fargli vivere almeno per un giorno l'esperienza da presidente molto spesso parliamo di aspetti che riguardano la gestione di un'azienda i rischi che si corrono senza mai toccare le nostre tasche abbiamo cercato con un linguaggio molto semplice di raccontare tutto ciò che riguarda la vicenda non sportiva della gestione di un'azienda da calcio cercando appunto di fare questo business game questo gioco di affari con il tifoso e quindi di metterlo nei panni del presidente per un giorno e fargli vivere tutte le esperienze dal calciomercato a una strategia di marketing a una strategia sul brand alla campagna acquisti alla gestione dei conti fino ad arrivare al momento di decidere se vendere o non vendere il Napoli veramente si insegna che nel calcio si può vincere anche senza indebitarsi sì e soprattutto è un caso rarissimo perché abbiamo esaminato le principali cinque leghe per 15 anni le principali cinque leghe europee e tranne che in quattro casi negli ultimi 15 anni hanno sempre vinto le squadre che hanno speso maggiormente durante il calciomercato quindi il valore della rosa era determinante per la vittoria finale l'ultima domanda dove era giovedì sera e che sensazioni ha provato giovedì sera ho contribuito a comprarmi tre biglietti per il San Paolo perché ho saputo che l'incasso era devoluto in beneficenza ma ho preferito rimanere a casa con i miei familiari con i miei affetti perché volevo vivere quella emozione quell'esperienza in maniera particolare e soprattutto un sentimento ricordando mio padre che è finito tre anni fa e che per tutto il campionato continuava a sedersi c'era una maglia appoggiata sul divano laddove lui si sediva sempre il tema della 29esima edizione del maggio dei monumenti è Napoli in vetta nel reportage le motivazioni della scelta per una città da guardare con gli occhi all'insù dal 12 maggio al 4 giugno con oltre 80 eventi a ingresso gratuito vediamo un'offerta ricchissima fatta di cinema danza musica reading un'offerta complessa che riguarderà tutti i quartieri della città 80 spettacoli gratuiti finanziati dal comune a cui si aggiungono tutti gli appuntamenti organizzati dalle associazioni del territorio che noi promuoviamo sponsorizziamo e diciamo premiamo per questa loro attività ed inoltre diciamo c'è il rapporto con le scuole riprendiamo dopo tanto tempo il rapporto con la fondazione Napoli 99 di Mirella Barracco una cosa importante quindi innovazione tradizione in un'offerta davvero ricchissima che credo farà contenti i napoletani e i turisti tutte le arti in tutti i luoghi della città in questa città policentrica il tema fondamentale di questo maggio è l'aria e l'altro elemento fondamentale l'anno scorso abbiamo attraversato la terra attraverso muraria con le mura quest'anno ci rivolgiamo all'aria per uno sguardo dall'alto per uno sguardo divergente che crea prospettive inedite e dunque la danza è protagonista ci saranno una serie di manifestazioni legate alla danza molto interessanti in vari luoghi della città ci saranno alcune rassegne cinematografiche molto importanti dedicate a un regista straordinario come Wim Wenders il cui cielo sopra Berlino ha proprio rappresentato un modo inedito di guardare le città e un altro omaggio importante a Capuano con una retraspettiva dei suoi film dopo lo straordinario sensuale insomma è quasi come 20 omaggio che Sorrentino ha voluto dedicare a questo maestro del cinema napoletano all'interno del maggio grazie agli sguardi divergenti e inediti che Capuano ha saputo restituire con la città una città da guardare con gli occhi all'insù dal 12 maggio al 4 giugno il tema della 29esima edizione del maggio dei monumenti è Napoli in vetta oltre 80 eventi ad ingresso gratuito per sottolineare la dimensione aerea verticale della città e del suo patrimonio culturale declinato attraverso itinerari storico-artistici danza teatro concerti film reading e iniziative speciali una narrazione della città attraverso nuovi punti di vista sui prospetti dei monumenti dal centro a Capodimonte a Posillipo raccontando le altezze e i dislivelli della città e coinvolgendo anche le scuole l'elenco completo è disponibile sul sito e sui profili ufficiali social del comune di Napoli mettere in relazione i pezzi di città unendo luoghi che solitamente sono aperti o sono chiusi o aprono per l'occasione come nel caso diciamo della Scala Santa di Van Vitelli dell'Università o del meraviglioso soffitto di Donna Romita o per l'ascesa che faremo verso la collina di Miradois ma con l'idea di mettere proprio in connessione elementi che solitamente non vengono messi in relazione quindi per raccontare storie per capire come il patrimonio diffuso della città di Napoli può essere interpretato in un'enorme quantità di temi e di tematiche in questa occasione alzando lo sguardo cioè noi che siamo abbiati spesso a camminare a testa bassa in questo caso invece guardando il cielo guardando particolari guardando anche i soffitti raccontando quello che i soffitti possono raccontare sia nelle loro fasi gloriose sia anche nelle loro fasi drammatiche perché vedremo anche i soffitti distrutti dalla guerra quindi anche quello che dal cielo può cadere in certi momenti drammatici della storia dell'umanità sarà un maggio in vetta come la città come la squadra di calcio come tutti i napoletani un maggio molto ricco tanti eventi che coinvolgeranno tutta la città che toccheranno la musica il teatro e poi ovviamente la visita di luoghi diciamo non noti perché noi cerchiamo di far scoprire i turisti e i napoletani parti della città bellissime che però non sono tanto conosciute ci sarà cinema e poi ci sarà anche una partecipazione molto ampia un forte coinvolgimento delle scuole con la collaborazione con la fondazione Napoli 99 riprendendo una tradizione che è una tradizione importante per questa città e anche ovviamente abbiamo poi anche un programma diciamo un po' fringe con la partecipazione di tutte le associazioni che proporranno anche loro una serie di iniziative che saranno promosse al Comune di Napoli si è spento nella notte all'età di 67 anni il giornalista e scrittore napoletano Massimo Milone già caporedattore del TGR e responsabile di Rai Vaticano il sindaco di Napoli il professor Gaetano Manfredi ha scritto una grave perdita per Napoli e per tutto il giornalismo italiano Massimo Milone era uno straordinario professionista di grande sensibilità a lui va la gratitudine e il ricordo di tutta la città i funerali ci saranno domani mercoledì 10 maggio alle 11 nella chiesa dell'Arci Confraternita dei Pellegrini alla Pigna Secca ed ora il meteo previsioni per domani al mattino sulle coste molte nubi con deboli piogge in montagna cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita nel pomeriggio sulle coste molte nubi con deboli piogge in montagna molte nubi con deboli piogge e questo era il nostro ultimo servizio grazie per averci seguito e buona serata alle 22.50 non perdetevi lo speciale dedicato a Santa Restituta ma prima una lunga parentesi dedicata alle elezioni a Santa Restituta